In questa seconda prova, categoria Junior 2, seconda classificata con punti 20 e 100, Pastore Ludovica, ASD Delfino, con punti 22 e 200, prima classificata, Anna Marina Serena, premiano la direttrice tecnica Stufano, Marisa e la presidente Silvia Maddalena Fisari. Do lettura, invece di quella che è la classifica finale delle due prove, sempre specialità clavette, categoria Junior 2, terzo posto per Spilofro Chiara, con punti 15 e 200. A Panimerito, al primo posto, la Marina Serena, Pastore Ludovica, con punti 22 e 200. Premiano ancora il consigliere regionale, Saverio De Cambria, Marisa Stufano, la direttrice tecnica regionale, e la presidente Giulia Maddalena Fisari.